Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Gio e questo è il mio canale Business Z. Era da un po' che non tornavo sul mio canale con contenuti riguardanti al mondo cripto, ma oggi ragazzi sono tornato poiché ho identificato un nuovo progetto cripto ovviamente collegato appunto a una meme token. Vi ricordo che ovviamente il potenziale delle meme token è altissimo, infatti alcune come quella che ne ho pubblicato in passato a Smog hanno dato un bel utile ovviamente a chi le ha presi in presi, quindi sicuramente non è una cosa da sottovalutare quello delle meme token ed è ovviamente un mondo che può dare tanto, ma come il mondo cripto in generale ovviamente qualunque cosa va sempre presa in un certo modo, nel senso va capita, va studiata e quindi proprio per questo io prima di portare un nuovo video sul mio canale, insomma l'analizzo prima per me e dopo ovviamente la porto sul canale. Oggi come dicevo sono tornato con questa nuovissima meme coin che ovviamente ho già visto in passato e analizzato, quindi stavo capendo un attimo prima di fare il video però ovviamente ho visto un bel potenziale e proprio per questo motivo ho deciso di portarla. Però ovviamente prima di iniziare questo nuovo video, come sempre ti ricordo di iscriverti al mio canale per supportarmi e di attivare la campanellina per non perderti nessun nuovo video. Allora ragazzi come potete vedere la meme cripto in questione si chiama Slot è una nuovissima meme cripto, infatti come vedete è ancora insomma tutto il fatto da zero, nuovo sito quindi non ci sono tante voci proprio perché appunto è stato lanciato da poco questo nuovo progetto questo volevo dirvi e quindi può dare un bel po' come ho detto. La cosa che più mi ha affascinato di questa meme coin è che comunque è basata su rete Solana quindi ovviamente già questa cosa, il fatto che comunque giri su rete Solana a mio parere può dare un bel po' e quindi ha un ottimo potenziale motivo per il quale come vi ho già detto l'ho scelta. Infatti ora imbattendoci per prima cosa nel sito vediamo subito X, quindi vabbè Twitter, giusto per farvi capire un attimo quindi come vedete già prendo Twitter capiamo che comunque il profilo non è un profilo da poco e che comunque ha già 9870 followers, ha un solo following che ovviamente è Binance quindi un profilo bello, fatto bene, verificato e tutto e ovviamente vi consiglio di seguirlo, io ora non so se sono logato qui quindi non potrò seguirlo però comunque se clicca, ah no, ok sono logato quindi lo inizio a seguire anch'io volevo farlo in live con voi e quindi qua come vedete c'è l'indirizzo Solana insomma del progetto e come vedete joined March 2024, quindi come vi dicevo già da prima il progetto è totalmente nuovo, qui ovviamente ci sono tutti i tweet fatti nel tempo quindi motivo per il quale vi consiglio di iscrivervi, cioè di seguirlo su Twitter perché ovviamente avrete tutti i vari aggiornamenti nel frattempo io come suggerisco sempre in descrizione c'è il mio canale Telegram quindi se non sei iscritto iscriviti, è gratuito ma è importante perché lì poi ovviamente comunico tutti gli aggiornamenti ma tornando al sito, allora come vedete la prima cosa che c'è è appunto di comprare prima del lancio e aspettare l'airdrop quindi un Solana equivale praticamente a 10.000 slot e si prevede appunto un aumento di 6.970.083 dollari quindi questo è un ottimo dato perché ragazzi ovviamente avendo un incremento così immaginate ovviamente chi entrerà già da ora quanto appunto potrebbe riuscire a farci infatti se andiamo a scrivere qui ovviamente io ora non posso farlo perché i wallet di collegamento su rete solana sono Phantom Solper Trust e Coinbase Wallet e io attualmente qui ho Metamask Wallet quindi questa cosa l'andrò a fare prossimamente magari se avete dubbi o se vi serve una mano comunque se mi contattate cercherò di darvi una mano però ovviamente questi sono i wallet da utilizzare quindi ripeti ora questi wallet non li ho installati e quindi non posso procedere però se voi li avete già installati basta semplicemente utilizzare il wallet di riferimento che comunque supporta la rete solana e il gioco è fatto come appunto, eh vabbè io sto provando qui ma non mi fa andare ancora comunque qui poi andate ad inserire l'importo in Sol che serve Solana e ovviamente lui ve li converterà direttamente in slot quindi già questa è un'ottima cosa qua ovviamente ci spiega un attimo quindi insomma i punti focali quindi unicita al viaggio di slotana, dei salotti verdeggianti, alle ricchezze e delle criptovalute la prevendita è live quindi ovviamente come avrete capito questo bradipo innovativo viene visto appunto come un businessman tant'è che dopo c'è ovviamente l'immagine con la Lamborghini poi ovviamente abbraccia la vita da bradipo lascia stare che il tuo sol voli con slotana e posti prevendita limitati quindi come vi ho detto già questa roba qua è un fatto che comunque tira molto a farli prendere quindi è importante questa cosa e ovviamente qua come vi ho detto tuffarsi nella pre-sale di slot perché ovviamente se si è già in pre-sale quindi nella fase prima del lancio ovviamente si possono avere dei token a un ottimo prezzo poi vabbè qua c'è anche la fase tutorial io ve la faccio vedere anche quindi per acquistarle premi compra in alto colleghi del wallet inserisci la quantità di soldi a scambiare in slot e premi di nuovo compra ora per confermare la transazione quindi come vi ho detto vi basterà anche avere un solana io ovviamente penso che poi due o tre solana me li scambio proprio perché ovviamente non voglio perdermi in questa opportunità poi vabbè qua invece dice che se non riesci a collettere il tuo wallet c'è l'indirizzo e ovviamente con questo indirizzo verranno direttamente trasferiti al proprio wallet di riferimento e vabbè poi qua ci sono insomma le frequente al suo answer question che ovviamente i token verranno trasferiti sul tuo portafoglio dopo la pre vendita e tenendo il tuo portafoglio per l'allievo di slot quindi ovviamente non sarà istantanea questa cosa e ovviamente ci metterà del tempo quindi come vedete questo è il sito ovviamente è tutto ancora in fase di pre-sale ed è ancora tutto in fase embrionale però è proprio questo ragazzi il momento opportuno per entrare in un nuovo progetto cripto soprattutto di una coin meme quindi una meme coin che può dare veramente degli ottimi risultati come avete visto ragazzi questo progetto slot sembra veramente molto molto ambizioso io come ho già detto ora procederò con l'acquisto perché ovviamente vi serve del tempo per collegare il trust wallet ovviamente fammi sapere che te ne sembra di questo progetto perché come ho detto ragazzi tutti i nuovi progetti cioè tutti i progetti che danno veramente degli ottimi frutti sono quelli che vanno presi sin da subito grazie a tutti grazie a tutti